Settima sconfitta per il Terra Nuova Traiana che scopre l'amaro calice della Serie D. Da ieri sera potrebbe essere in discussione la posizione dell'allenatore Simone Calori, ma per il momento la società bianco-rossa fa quadrato e conferma la posizione del trainer che grosse colpe non ne ha, visto che la squadra presenta un lotto di giovani e di giocatori che in questa categoria hanno poca esperienza, tranne alcune eccezioni. Troppo smaliziato il Poggi Bonzi che si è imposto 3-0 per la squadra giallo-rossa a partita in discesa dal secondo minuto quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Bonechi in torsione supera D'Ambrosio e porta in vantaggio la formazione il sana. Il raddoppio del Poggi Bonzi matura nella ripresa grazie ad un penalty per un atterramento di Tognetti in aria. Dagli 11 metri lo specialista Ricco Bono non perdona 2-0 per la formazione ospite. Partita senza storia, il Terra Nuova Traiana tenta di invertire la tendenza ma il Poggi Bonzi concede molto poco, il portiere Pacini è sempre concentrato la terza rete arriva a poco più di un quarto d'ora dalla fine stavolta è Regoli che trova l'angolo giusto notte fonda per il Terra Nuova Traiana, il Poggi Bonzi può pensare già al città di Castello.